Dopo Salines, ecco Mattia Fiorini. Il Foggia ha perfezionato un'altra operazione in entrata, mettendo sotto contratto il centrocampista 22enne di proprietà della Fiorentina, ma che nelle ultime due stagioni ha giocato in Serie C vestendo la maglia del Fiorenzuola. 19 presenze due anni fa, 33 nella stagione scorsa, dove ha messo a segno anche un gol, un mediano cresciuto come detto nel club viola, dove ha vinto per tre anni di fila la Coppa Italia Primavera, vestendo anche i panni del capitano. Nella Fiorentina l'occorrenza ha giocato anche da difensore. Fiorini vanta anche 25 presenze nella nazionale Under 17. E proprio sul mercato ieri sera il club rossonero ha fatto il punto in una nota, partendo dalla questione Frigerio. Non sono arrivate proposte idonee e qualora nelle prossime ore la situazione rimanesse tale, gli verrà proposto il rinnovo del contratto, ha precisato la società, che poi ha chiarito di essere al lavoro per nuovi innesti di categoria utili a completare la rosa di Cudini e che si sta adoperando per provare a chiudere a suo la battaglia legale del prossimo 29 agosto davanti al Consiglio di Stato, dove il Foggia sarà affiancato dall'amministrazione provinciale guidata dal presidente Nobiletti, che ha deciso di costituirsi affidando mandato all'avvocato Vincenzo De Michele. E proprio a proposito di battaglia legale va registrato l'anticipo dell'udienza straordinaria del Tarlazio, inizialmente programmata per il Foggia il prossimo 26 di settembre. Il Tarlazio ha invece anticipato la discussione del ricorso del club rossonero al 4 di settembre. A questo punto prende corpo l'ipotesi che l'avvio della stagione ufficiale del Foggia, da calendario impegnato a Taranto per la prima di campionato domenica 3 settembre, possa essere sospeso in attesa dei verdetti definitivi.